Allora, volevo fare una piccola considerazione sulle tastiere Ranger Yamaha a due secondi per farvi capire anche un po' le differenze, perché questo è importantissimo. Allora, la differenza tra l'ammiraglia della Yamaha e la Genos e le altre tastiere, oltre ad avere delle differenze di memoria RAM, che è una cosa importantissima, perché la Genos ha 3 GB di RAM dove contenere tutti questi pack, perché questi pack funzionano, vengono allocati nella RAM interna. La 900 ha 1 GB, così come 1 GB ha Tyros 5, e gli altri modelli a scendere, fino ad arrivare ai 170 MB della S770. Sepport Creator è compatibile con Genos, Tyros 5, SX900, SX700, S975, S970, S775, S770. Quindi ci sono vari modelli di varie fasci, si parte dai 700-800 euro a arrivare a circa 3.600 qualcosa, 3.700 della Genos. La differenza sostanziale tra la Genos e le altre macchine, questo deve essere abbastanza chiaro per chi in futuro vorrà acquistare un prodotto Yamaha o già a un Ranger Yamaha, la differenza sostanziale, per quanto mi riguarda, è la capacità di gestire i processori di effetti. La Genos è l'unica macchina al mondo, l'unica Ranger al mondo, che gestisce 28 processori simultanei sulla parte style e sulla parte, diciamo, right. Vuol dire che io posso inserire un compressore su una drum, un phaser su un piano elettrico, un flanger su un'altra chitarra, un riverbero particolare su un pianoforte, o una compressione o un equalizzatore particolare sulla drum o sulla drum 2. Posso fare qualunque cosa e anche doppio processore per ogni traccia. Le traspiere normali raggiungono parte riverbero e corso delay, che sono parametri midi e un insert, hanno un solo insert, oltre a due effetti simultanei, come la 900, come la PA1000, come la PA4X della Corb. Un po', insomma, tutte queste macchine arrivano, le più potenti arrivano a questi numeri. Quindi tre effetti insert nella macchina. Qui ne arriviamo a 28. Cioè, questa macchina è qualcosa di allucinante come gestione degli effetti e come avere un logic, un cubase, quello che sia a portata di mano. Oltre ai parametri di equalizzazione normali dei filtri, il cutoff, l'inset, normali che hai qui a portata di mano. Altra piccola cosa che vi dico, lei automatizza alcuni parametri midi nella gestione dello style creator. Vuol dire che se io automatizzo un cutoff, quindi un filtro che apre e chiude su una variazione, gli do l'automazione, legge l'automazione, registra l'automazione. Quindi sono cose che, per chi usa le DAV, i computer e i sequenze, sono cose normalissime, giornaliere. Per un arranger non è poi così scontato, insomma. Quindi è una cosa importantissima. Faccio un piccolo esempio per farvi capire. ad esempio una chitarra, spero che sia quella giusta. Questo è il suono che offre la Yamaha di default, diciamo, come equalizzazione. Allora, c'ha vari amplificatori, il suono cambia radicalmente. Considerate che tutti questi amplificatori io li posso applicare su tutte le parti, e quindi cambio il mix totalmente. Le scritture midi, ossia lo style, l'audio, tutti i contenuti dei nostri pack, sono identici per tutti i modelli. Quindi lo style sono uguale sulla 900, sono uguale sulla Genos, su altre macchine. Quello che cambia è la gestione del processore nelle parti. Quindi il mix può sembrare più articolato, più coinvolgente, più insomma, più bello, perché vai ad adottare vari processori nelle varie parti. Domande?